Musica Principio di incendio ai motori del traghetto Bellini è stato spento dal personale di bordo rimortiato a Piombino e attraccato alle 12.15 nessun danno alle persone il sommergibile Romeo Romei nelle acque dell'arcipelago è un'esercitazione di vieto di navigazione e pesca fino a 5 miglia a sud dell'isola fino a metà marzo la gestione associata del turismo punta a potenziare il collegamento aereo-elbano aumenta il contributo di sbarco che passa da 3,50 euro dal 20 maggio al 20 settembre assemblee con la cittadinanza a rio marina e rio nell'elba continua la campagna dei sindaci per spiegare la fusione martedì 7 marzo appuntamento a rio elba Buonasera questa sera a prima pagina vi presentiamo le iniziative per la festa della donna a Portoferraio vedremo quelle del comune dall'8 al 12 marzo mercoledì 7 marzo invece incontro con le Soroptimist e con lo SPI CGL a rio nell'elba ingresso gratis al museo per le donne a Portoferraio tutto pronto per celebrare la festa della donna mercoledì 8 marzo dall'8 al 12 marzo Portoferraio festeggerà la donna ovviamente l'amministrazione non ha nessuna intenzione di festeggiare la donna con mimose o cene fuori l'importanza del genere femminile e dell'impegno delle donne va valorizzato e quindi abbiamo deciso insieme all'assessorato alla cultura e alle politiche giovanili di creare una serie di iniziative che danno l'opportunità alle donne portoferraiesi e del Bane in generale di portare il loro contributo al nostro paese quindi l'8 marzo intanto ci saranno due vernissage perché alla Telemaco Signorini ci sarà Raccontami di te una mostra di fotografia e pittura con tre artiste che sono Belinda Biancotti Daniela Traverso e Anna Marconi che attraverso la loro sensibilità portano avanti questo percorso sulla donna e contemporaneamente alla San Salvatore quindi alla Caserma dei Logè avremo una mostra di donne per le donne ovviamente anche i signori maschi sono invitati ci sono donne cosiddette normali che però nel loro tempo libero o anche a scuola fanno dei prodotti artistici quindi pittura collage fotografia abbiamo i ragazzini i bimbi delle elementari di San Rocco ma anche le ragazze delle medie che espongono i loro quadri i loro lavori due giovani artiste due giovani fotografi Vittoria Franzin e Camilla Miliani che porteranno avanti il loro percorso fotografico e quindi contribuiranno con una mostra con questa mostra a far vedere i loro lavori e poi alcune donne cortoferraiesi che si dilettano di pittura Flavia Gattoli Angela C e tante altre che quindi ci lasceranno i loro lavori per far vedere che anche una donna che di mestiere fa tutt'altro può comunque esprimere attraverso le forme d'arte la propria sensibilità queste mostre andranno avanti fino al 12 pomeriggio quindi al 12 sera domenica e poi a teatro il 10 avremo il monologo Marcella che è una compagnia sarda che ha deciso di venire da noi a portare questo suo contributo ovviamente il tema è quello della violenza contro le donne la sera lo spettacolo è aperto a tutti quindi siete tutti invitati a partecipare la mattina del 10 lo spettacolo sarà riservato gratuitamente per i ragazzi delle scuole superiori il sabato 11 al centro giovani durante il pomeriggio ci saranno le performance di tutte le ragazze che partecipano ai corsi e sempre il sabato pomeriggio alla telema con signorini avremo le ragazze dell'indirizzo musicale quindi i maschietti verranno solo ad ammirarle che porteranno il loro contributo musicale quindi insomma un'offerta diversificata che io Laura e Roberto abbiamo voluto dare per mostrare comunque l'interessamento e l'importanza delle donne portoferraiesi le Soroptimist Club Isola Delba con il patrocinio del comune di Portoferraio invitano tutta la comunità ad un pomeriggio in cui la donna verrà festeggiata attraverso il bello della musica nell'arte e nella letteratura convinte fanno sapere che solo tramite l'arte in tutte le sue forme ognuna di noi dicono possa sentirsi rappresentata capita e gratificata l'appuntamento è dalle 15.30 alle 20 presso la sala della Gran Guardia in un continuo alternarsi tra musica classica letture musica moderna e canto lirico il gruppo donne insieme del sindacato pensionati dello SPCGL Elbano invita tutte le donne nella sede di Portoferraio via della Fonderia 1 dalle ore 15.30 vi aspettano offrendovi un momento di riflessione ma anche un sorriso un abbraccio un arrametto di mimosa e un brindisi anche a Rio nell'Elmo un omaggio alle donne mercoledì 8 marzo il museo civico archeologico del distretto minerario effettuerà l'apertura straordinaria dalle ore 16.30 alle 18.30 il museo pur essendo comunale aderisce all'iniziativa del MIBACT per i musei statali e omaggio alle donne di tutte le età offrendo loro l'ingresso gratuito l'ingresso Grazie a tutti. 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 A renderlo noto è un'ordinanza della Capitaneria di Porto che vieta la navigazione e qualunque tipo di attività di pesca nell'area interessata. La zona è compresa tra le isole di Pianosa e Monte Cristo e interesserà lo specchio acqueo a 5 miglia a sud dell'isola d'Elba. Il sommergibile Romeo Romei è il gemello del Pietro Venuti che lo scorso anno aveva compiuto esercitazioni nel mare dell'Arcipelago nel mese di maggio. I sindaci elbani si sono riuniti per parlare di gestione associata per la promozione turistica. Puntano a potenziare il collegamento aereo-elbano per quanto riguarda le opere comprensoriali da finanziare con il gettito del contributo di sbarco. Contributo che avrà un incremento in alta stagione. La gestione associata per la promozione turistica fa il punto e decide come arrivare al 30 settembre del 2017. È il termine per la proroga che i sindaci si sono dati prima di prendere nuove decisioni per quanto riguarda la nomina di un nuovo comune capofila alla luce delle elezioni amministrative previste nella prossima primavera che porteranno il rinnovo di tre consigli comunali elbani. Abbiamo preso questa decisione, spiega Roberto Marini, vice sindaco del comune di Portoferraio, membro della giunta operativa della GATT, nel rispetto dei nuovi rappresentanti istituzionali che arriveranno dopo le amministrative. La consulta dei sindaci quindi si è riunita nel pomeriggio di giovedì 3 marzo al centro dell'incontro che si è svolto nella sala consigliare del comune di Capoliveri le modalità di distribuzione dei proventi del contributo di sbarco sulla base delle nuove previsioni di entrate delle opere comprensoriali da realizzare. Confermato sulla base di quanto già deciso dagli amministratori elbani l'incremento del contributo nel periodo di alta stagione stabilito dal 20 maggio al 20 settembre ammonterà a 2,50 euro per i bambini soggetti al pagamento del biglietto fino a 12 anni e a 3,50 euro per tutti gli altri. Il contributo per la bassa stagione resta ad 1,50 euro. Restano le esenzioni applicate fino ad ora. Il gettito complessivo per l'anno in corso quindi sarà di poco meno di 2.800.000 euro. Sarà necessario inoltre applicare il contributo di sbarco alle navi da crociera e agli aerei per evitare possibili danni erariali, viste le previsioni della normativa vigente. Procederemo ad approfondire questa previsione, spiega ancora Marini, nonostante la normativa preveda come dovuta questa applicazione. Vedremo se c'è un'altra possibilità. Proprio al potenziamento dello scalo delbano saranno destinati 125.000 euro, quelli destinati per quest'anno all'intervento comprensoriale. Andranno a supporto e sviluppo dei collegamenti aerei, continua il vicesindaco Portoferraiese. Siamo tutti d'accordo di lavorare su questo. Non abbiamo potuto procedere con più opere tecniche perché, scadendo la proroga di questa modalità di gestione della gestione associata del turismo, il prossimo 30 settembre non avremmo avuto la possibilità di contare su tempistiche più lunghe necessarie per gli interventi. Del gettito complessivo del contributo di sbarco, 190.000 euro saranno assegnati ad ogni comune, ad eccezione di Portoferraio, che ne riceverà 300.000. I sindaci hanno deciso inoltre di passare a 50.000 euro il compenso da destinare al comune di Capoliveri per la sua funzione di capofila. Poco meno di un milione di euro andranno alla gestione associata per la promozione turistica, circa 200.000 in più rispetto agli anni passati. Nella riunione è stata fatta presente la richiesta ai comuni di pagare la seconda squadra dei Vigili del Fuoco impegnata sull'Elba durante la stagione estiva. Gli amministratori effettueranno una verifica con la regione toscana per capire come mai ha sospeso il pagamento del servizio. Continuano le assemblee con la cittadinanza nei comuni di Rio Marina e Rio Nell'Elba per spiegare la fusione. Quindi i sindaci hanno un nuovo appuntamento martedì 7 marzo a Rio Nell'Elba. Naturalmente tutti i cittadini sono invitati per capire che cosa potrebbe succedere tra i due comuni. Continua la campagna per la presentazione del progetto di fusione tra il comune di Rio Marina e Rio Nell'Elba. Le assemblee con la popolazione organizzate nei comuni interessati e a cavo hanno avuto inizio venerdì 4 marzo proprio nella frazione di Rio Marina e proseguiranno nei prossimi giorni. Martedì 7 marzo alla volta di Rio Elba. Alle 17.30 i due sindaci incontreranno i cittadini al Teatro Garibaldi per spiegare i motivi e le modalità della fusione e le procedure previste per l'indizione del referendum. Le due amministrazioni albane, data l'importanza dell'argomento, invitano i cittadini residenti nei comuni e nelle frazioni di Rio Marina e Rio Nell'Elba a partecipare numerosi. Vi mostriamo ora un alto fondale abbastanza particolare, sembra quasi di essere a Venezia. Infatti la banchina è stata invasa dai piccioni. Abbiamo preso le foto pubblicate sui social che mostrano appunto questi volatili che hanno praticamente invaso la banchina. Forse perché qualcuno continua a dargli del mangime. Vediamo le foto. Alto fondale a Portoferraio, come Venezia. Questa era la situazione immortalata dagli scatti di Ivan Giurelli e pubblicati sui social del lungomare portoferraiese nella tarda mattinata di venerdì 3 marzo. Stormi di piccioni, probabilmente attirati dal mangime lasciato da qualcuno, hanno completamente invaso il piazzale e non solo, come si vede nelle foto, anche sulle auto in sosta. Il fatto ha provocato qualche hilarità nei commenti sui social, più arrabbiati forse i proprietari delle macchine. Ben ritrovati in studio ed ora una notizia che potremmo definire di servizio perché vi informiamo che la società Cosimo dei Medici ha indetto una procedura selettiva per titoli e colloquio per costituire una graduatoria per il reclutamento di personale a tempo determinato con la mansione di operatore qualificato addetto alla segreteria settore amministrativo. I titoli di studio richiesti sono il diploma di laurea magistrale o di secondo livello, concorso di laurea in ingegneria gestionale, giurisprudenza, economia, scienze dell'amministrazione. Il testo integrale del bando di selezione lo potete trovare pubblicato sul sito della Cosimo dei Medici www.marinadiportoferraio.it Cambiamo argomento ora e parliamo del nuovo appuntamento di questa sera con Coffee Break. Ospite di Rudolf Mernone è Susanna Di Scala, una violinista elbana diplomata all'Istituto Superiore di Studi Musicali Mascagni di Livorno. Vediamo. Salute a Coffee Break. Oggi il nostro ospite è Susanna. Mi dedico alla musica, nel senso che insegno. Tu fai la violinista. Sì, faccio la violinista. Questo diciamo è il violino classico. Sì, questo è il violino classico. Il violino classico. Mentre quello elettrico... Puoi provarlo? Io, ma forse, ma non lo provo. Così? Sì, allora, arco dritto, divo carica le gambe e suona. Questo no, si usano queste quattro dita personale. Io quando dito ne tocco tre o quattro destino. Guarda, senti, fammi un altro paio di pezzi, io sono un po' volanti violino. Allora usani pure. Vediamo appunto ora la terza categoria livornese di calcio. Il pareggio nel derby audace è Porto Azzurro. La vittoria del Martorella e la sconfitta a Casalinga per il Rio Marina. In archivio anche la ventesima giornata del campionato di lettanti di terza categoria, Girone Livornese, che venne impegnate quattro squadre al Bane. La domenica si è conclusa con un bilancio in chiaro scuro. La partita di cartello si è disputata sabato pomeriggio allo stadio Antonio Lupe di Porto Ferraio. In programma era il derby tra Academy Audace e Porto Azzurro. Una bella partita che si è conclusa con un pareggio, due a due, e che forse accontenta entrambe le squadre. L'Audace infatti rimane solidamente in testa alla classifica, con nove punti di vantaggio sull'Etrusca Marina, che a sua volta ha strappato il pareggio, uno a uno contro il nuovo Casotto. Netta la vittoria del Martorella-Sampiero, 4-1 contro il Real Monte Rotondo. Inaspettata, invece, la sconfitta casalinga del Rio Marina, battuta dal Collevica, 2-1 il risultato finale. La classifica vede al comando l'Academy Audace, con 51 punti, al secondo posto l'Etrusca Marina, con 42. In classifica il sesto posto è occupato dal Porto Azzurro, con 32 punti, a seguire Luigi Martorella con 28, ultima dell'Elbane il Rio Marina, con 23 punti. Nel prossimo turno, Rio Marina e Accademy Audace in trasferta, rispettivamente contro il Giamborio Orlando e Sasso Pisano. Sempre in trasferta è Luigi Martorella, che incontrerà il Collevica. Infine il Porto Azzurro se la vedrà, tra le mura amiche, contro il Carli Salviano. E' tutto anche per questa edizione del telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di serata sui nostri canali. Vi lascio infatti a coffee break con Rudolf Mernone e la sua ospite, la violinista Susanna di Scala. Grazie a tutti.